Buonasera, siamo in questa seconda parte di questo percorso di tirocinio e in precedenza nella prima intervista abbiamo analizzato in maniera generale i quattro casi di studio con il tutor e il professor Santori e dopo aver analizzato attraverso risposte del tutor il perché della scelta di questi specifici casi, insieme al tutor andremo ad osservare alcuni dati raccolti e alcuni risultati ottenuti da questi appunto casi di studio anche attraverso l'utilizzo, come aveva accennato in precedenza il tutor, dei GPS che soprattutto per i casi 1 e 2 sono stati utili per avere un confronto anche con i dati della partita, proprio specifici appunto della partita e mi volevo chiedere come ad esempio in alcune sedute sono stati i calciatori che hanno avuto il GPS per tutta la seduta di allenamento che era una seduta di forza più dei lavori di possesso palla e analizzando un po' i risultati volevo sapere in generale la valutazione che può dare il tutor prendendo in esame sia i dati appunto del GPS che come abbiamo detto sono andati in confronto sia un po' il suo parere, soprattutto il suo parere generale sui risultati ottenuti da questi lavori Allora, oltre alla valutazione del carico esterno con GPS noi essendoci allenati per sei mesi abbiamo effettuato anche dei test da campo o per avere dei parametri generali, quindi abbiamo utilizzato la pedana di forza effettuando dei test squat jump, contro movimento jump e anche con un solo arto questo per darci una panoramica generale di quello che poteva essere l'andamento di questo periodo perché appunto inizialmente non immaginavamo la durata cioè noi avevamo delle scadenze e mano a mano queste scadenze si prolungavano e l'altro test da campo è stato l'OIO test quindi abbiamo appunto avuto questi due riferimenti da lì andando avanti abbiamo iniziato a mettere il GPS con GPS K Sport 25 Hz e abbiamo valutato sia le amichevoli iniziali quando si è potuto iniziare a fare appunto un allenamento di contatto quindi amichevole in famiglia per appunto valutare quello che poteva essere una qualcosa di simile a una prestazione, a una performance ricordiamo che da marzo se non sbaglio si è potuto riprendere sì, indicativamente da metà marzo dopo il periodo appunto per poi anche prendere in considerazione tutte le valutazioni delle partite di campionato effettuate e da lì noi questi dati li abbiamo estrapolati principalmente abbiamo considerato questi dati in rapporto a quello che poteva essere il carico settimanale si parla sempre di carico esterno in questa situazione quindi il carico settimanale andando a normalizzare i dati in base alle tempistiche per cui facevamo una determinata esercitazione esempio un possesso palla o quello che poteva essere una partita a tema o un gioco di posizione o un'esercitazione a ranghi ridotti normalizzarla in base al dato che ci interessava esempio la distanza sopra una determinata velocità del tempo rispetto a quello che poteva essere la partita perché un'esercitazione che dura 4 minuti per metterla a confronto oltre alla percentuale deve essere effettuata attraverso la normalizzazione del tempo perché io non posso confrontare 4 minuti con 90 una cosa molto semplice e da lì in base al focus che poteva essere da seduta il presupposto che abbiamo fatto anche nell'intervista precedente è che la programmazione veniva effettuata sempre a stretto contatto con lo staff tecnico, con l'inster quindi non c'era una scissione oggi si fa solo forza, oggi si fa solo resistenza era tutto un discorso legato anche a quello che può essere il concetto di priorizzazione tattica senza dilungarci più di tanto però da lì quelle esercitazioni che potevano avere delle finalità specifiche come il caso 1 dell'aspetto neuromuscolare veniva effettuato appunto andando a vedere quei dati che potevano interessarci come le accelerazioni, le decelerazioni e quello che mi interessava in più era la percentuale che andavamo a vedere nella singola esercitazione rispetto alla partita quindi se queste percentuali andavano più o meno di pari passo o comunque per quello che mi riguardava dovevano essere leggermente maggiori nell'allenamento di almeno 5, 10, 15% l'esercitazione poteva risultare allenante rispetto a quell'aspetto e principalmente oltre a quello che potevano essere i principi e sottoprincipi inseriti dall'allenatore dal punto di vista tattico e insomma organizzativo il mio lavoro principalmente era quello di adattare le superfici quindi adattare gli spazi e i tempi in base all'obiettivo noi abbiamo considerato su una superficie di 300 metri quadrati del giocatore che è quella che indicativamente occupa un calciatore la domenica delle percentuali di questa superficie per sviluppare ogni singola esercitazione esempio il nostro obiettivo era esercitarci dal punto di vista neuromuscolare e quindi effettuiamo esercitazioni di 50% o 40% rispetto ai 300 metri quadrati del giocatore mi sono spiegato? no, è chiaro mi sono dilungato no, no, va benissimo spessa cosa per quello che poteva guardare l'aspetto strettamente specifico riguardo la potenza aerobica o comunque similare alla partita e da lì appunto le percentuali e quindi il carico di lavoro che usciva fuori sia per ogni singola esercitazione sia per il totale come ho detto prima normalizzato per tutta la settimana ci dava il volume e l'intensità che noi volevamo sviluppare in ogni singola seduta per un totale indicato al carico settimanale del microciclo perché appunto non potevamo insomma la cosa più allenante è la partita ma se io faccio sette partite la domenica non ce la faccio quindi ogni cosa doveva essere gestita e ponderata in base a quello che potevano essere i carichi settimanali e la ripartenza del campionato e il campionato vero e proprio perché durante il campionato appunto non si poteva effettuare sempre periodi di carico ma per quello che mi riguarda ci devono essere periodi di scarico periodi come quello che andremo ad affrontare di tapering quindi di riduzione del volume ma comunque mantenendo l'intensità che per me è anche legata alla qualità dell'allenamento quindi delle appunto risorse tecniche, tattiche e mentali all'interno dell'esercitazione oretrovia e perciò oltre alle superfici si consideravano anche quello che potevano essere i valori assoluti veri e propri quindi anche le alte velocità che nel calcio spesso vengono un po' tralasciate anche se dal mio punto di vista sia a livello preventivo in cui nelle alte velocità quindi nelle distanze un po' più lunghe che spesso non tanti calciatori fanno ma all'interno di una partita si è visto che almeno due o tre episodi due o tre eventi per tempo avvengono e sono ad hamstring dominante quindi sono situazioni in cui i flessori vanno più in attivazione e spesso ci sono anche delle problematiche muscolari legate a queste situazioni e perché avvengono anche i momenti della gara in cui c'è maggiore stanchezza meno lucidità, le squadre si allungano e quindi si tende ad avere più spazio e bisogna essere pronti anche a tipologie di eventi del genere perciò considerando anche questa tipologia di valori assoluti come accelerazioni e decelerazioni alte velocità in esercitazioni a ranghi ridotti quindi magari uno contro uno due contro due situazioni legate al più tattiche ma comunque sempre mantenendo una certa continuità non tante interruzioni quindi di reparti e quindi l'aspetto neuromuscolare in quel modo veniva controllato o comunque veniva gestito incanalato verso quello che poteva essere le nostre aspettative di sviluppo quindi ora mi riaggancio anche un po' quello che ha accennato sull'importante valore degli hamstring comunque dei fressori possiamo parlare appunto del caso di studio numero 3 dei risultati e delle considerazioni che può su questo caso di studio di cui ci può parlare insomma le tempistiche le risposte dell'atleta dovute dopo le sedute individuali e il pian piano il reinserimento nel gruppo squadra che risultati e che cosa insomma analizzato da questo caso Sì come avevamo detto inizialmente potevano esserci questi rischi questi rischi di avere delle problematiche a livello muscolare dovute all'assenza di contatto e della prestazione per vari mesi dove appunto nel momento in cui si è ripartiti comunque con una condizione medio buona anche discreta magari la struttura però non era proprio pronta non ha diciamo assorbito la botta e perciò qualcuno più di qualcuno ha avuto delle problematiche muscolari sì e diciamo che dopo un primo esame e dopo una una prima valutazione da parte dello staff medico la parte riabilitativa veniva lasciata completamente al fisioterapista in cui oltre a terapie manuali e strumentali effettuava i primi lavori di riabilitazione e rieducazione per quello che riguardava i tempi tecnici era è stato insomma molto soggettivo rispetto sia all'atleta sia al tipo di lesione nel nostro caso abbiamo avuto una lesione importante dove l'atleta è stato fuori lontano al terreno di gioco quattro settimane quattro settimane dove sono state quattro settimane diciamo anche forzate perché magari in una situazione normale sarebbero state qualcosina di più insomma noi in quattro settimane abbiamo rimesso in campo abbiamo effettuato appunto dopo la prima parte di riabilitazione per classificare diciamo le due fasi di riabilitazione fisioterapica è venuto in campo con me con noi in maniera individualizzata quindi inizialmente abbiamo fatto dei lavori generali dei lavori a livello posturale a livello di mobilità perché comunque si presentava un soggetto non in condizioni posturali perfette un soggetto da una muscolatura importante strutturalmente comunque era è un giocatore che comunque sia oltre a una muscolatura ha una struttura quindi una genetica che permette di avere delle caratteristiche diciamo a livello neuromuscolare importanti ma nel frattempo una una pausa un'interruzione può comunque spegnere una macchina e per rimetterla in moto ci vuole diverso tempo rispetto magari a un soggetto più esero un soggetto con un baricentro più basso comunque più elastico e comunque con una mobilità maggiore certo noi siamo concentrati inizialmente su un aspetto preventivo soprattutto la mobilità e alla flessibilità per poi cercare di effettuare una panoramica generale su quello che poteva essere il ripristino delle capacità condizionali quindi lavori strettamente generali dal punto di vista aerobico dal punto di vista neuromuscolare curando l'esecuzione facendo attenzione all'appoggio dei piedi facendo attenzione a alcuni sovraccarichi che potessero comunque causare interruzioni nel percorso dell'altreta perché è importante comunque la continuità perché nel momento in cui si vuole cercare di strafare dal punto di vista dei volumi di somministrazione del carico si possano andare incontro a delle interruzioni che in questo momento vanno a rallentare tutto il percorso e anche era difficile gestire era difficile appunto effettuare un reinserimento un inserimento più rapido un inserimento soprattutto efficace perché tutto passava dall'efficienza dell'estretta nel momento in cui rimetti in campo un giocatore si deve sentire lui soprattutto sicuro di effettuare tutti i movimenti e tutto con maggiore qualità e intensità dopodiché la condizione generale è figlia di tante situazioni e di tante variabili e insomma è un'interruzione di un mese inevitabile che magari vada un pochino a togliere qualcosina in un aspetto generale di performance quello è chiaro c'è dove luce e infine parliamo del caso di studio numero 4 quindi questa differenza tra i cicli settimanali di allenamento con e senza partita sottolineando che le modalità di allenamento erano particolari come abbiamo detto in precedenza quindi senza contatto mantenendo la distanza durante il periodo di emergenza covid una panoramica appunto generale sui risultati acquisiti ottenuti dalle due diverse programmazioni allora la noi diciamo che abbiamo visto una vera e propria evoluzione per quello che riguardava anche la somministrazione dei contenuti e dei carichi di lavoro nella in tutto il periodo abbiamo effettuato se non sbaglio cinque valutazioni per tenere sotto controllo tutta la situazione e anche stimolare mentalmente l'atleta perché altrimenti magari era difficile tenere sempre una concentrazione elevata in tutti i lavori e la differenza di programmazione inizialmente diciamo che è netta perché non essendoci la performance domenicale e in più non essendoci esercitazione di contatti inizialmente noi abbiamo effettuato come detto precedenza una panoramica su quello che era l'aspetto e il livello di fitness generale dopodiché abbiamo lavorato più su quello che poteva essere i picchi di potenza tutto quello che magari potesse interessare la specificità del calciatore e anche esercitazioni integrate e i risultati sono stati positivi e soprattutto continui che secondo me quella è la cosa fondamentale perché è inutile magari andare a rincorrere un miglioramento di un soggetto che magari quelle sono le sue caratteristiche individuali o che è il ruolo che impone quella tipologia di modello prestativo quindi noi attraverso i dati attraverso i test da campo quindi magari test generali abbiamo cercato di monitorare sempre la forma generale dell'atleta per poi evidenziare dei miglioramenti veri e propri su quello che poteva essere appunto la valutazione del carico esterno attraverso GPS e quindi vedendo una vera e propria differenza evoluzione dalle prime amichevoli o dalla programmazione iniziale in cui non riuscivamo a non potevamo effettuare diverse esercitazioni sarebbe stato anche magari prematuro qualora ci fossero state autorizzazioni fare prepararsi arrivare magari al picco poi c'è stato molto lungo sei mesi un campionato generalmente dura nove mesi con due interruzioni ma questa è stata appunto una situazione diversa perciò gli atleti hanno risposto bene essendo un gruppo consapevole un gruppo molto esperto anche diversi ex professionisti sono riusciti a darmi comunque dei feedback importanti dal punto di vista di quello che poteva essere il carico di lavoro di quello che poteva essere sensazioni vere e proprie e anche una valutazione obiettiva di quello che è stato il miglioramento che nel momento in cui si rinserisce l'oggetto principale e quindi si rimettono le abilità specifiche a confronto si ridà il ritmo e si ridà quello che poi è quello che ci interessa perché ok che magari uno può avere una condizione aerobica eccellente ma anche se non è fondamentale e non è diciamo lo specchio veritiero di tutto quello che è i dati appunto dei gps però è una panoramica fondamentale della della partita per e propria quindi nel momento in cui vado a trovare domenica dopo domenica dei dati relativi al modello di prestazione di quel singolo calciatore quindi che magari può essere un difensore centrale o un centrocampista un attaccante un esterno o comunque un tornante e quindi una regolarità se non un miglioramento anche in base alla partita quindi che si che si andava ad affrontare sono soddisfatto insomma in più anche martedì che era il giorno di ripresa nella maggior parte delle ipotesi dei casi è stato sono state anche sempre situazioni di recupero parziale o comunque fisiologicamente come si può dire fisiologicamente di quello che ci si aspettava insomma sì erano positive le risposte anche martedì dopo qualcuno magari anche meglio di quello che ci si aspettava insomma soprattutto nelle prime basi dopodiché anche subentravano tutto quello che riguarda l'aspetto emotivo lo stress tante situazioni che insomma è difficile gestire quindi stiamo chiudendo un po' il discorso i risultati ottenuti sono positivi e sono in linea con ciò che si era comunque prefissato nella nella sua preparazione e programmazione vorrei farci alcune domande finali faccio un attimo una conclusione rispetto a quello che c'è prima perché è una cosa importante diciamo che i risultati non è non mi ero prefisso nessun risultato in maniera specifica perché per quello che mi riguarda sia l'atleta quindi come caratteristiche morfologiche funzionali sia il ruolo mi avrebbe dato il modello prestativo e di gara ottimale da poter confrontare e da poter tenere aspetta che un attimo la connessione ok si era bloccato si si ora sembra tornato si ok no quindi era giusto per dire che il quadro me lo dava Torinz e per sé in base alle sue caratteristiche generali quindi fisiche e e genetiche e in base a quello che era la le caratteristiche individuali del ruolo e del modello che l'allenatore richiedeva dal punto di vista tattico e strategico siamo stati in linea con le con le ok quindi in conclusione possiamo dire parlare un po' dell'esperienza del tirocinante appunto come ha affrontato questa esperienza se si è reso partecipe se è interagito insomma una sorta di valutazione del tirocinante se lui ha avuto modo ha avuto bisogno di aiuto comunque di spiegazioni più dettagliate per determinate situazioni una panoramica generale sulla valutazione del tirocinante posso non posso fare una valutazione positiva perché oltre a essere molto collaborativo sei competente insomma sei stato di aiuto e momento per me di crescita e come di un feedback importante perché comunque sei è stato sei magari prima ancora di più un calciatore professionista quindi determinate situazioni determinate sensazioni e una consapevolezza dal punto di vista sia fisica sia di ambiente di quello che può essere appunto la gestione di determinate situazioni è stata importante è stato appunto un feedback veritiero e affidabile quindi spesso si fanno si va alla ricerca magari di mille valutazioni che per rendere affidabili bisogna non so quanti giri o quante o quante sensazioni o quante pare di sentire io nella tua situazione atleta sono mi ha aiutato parecchio e mi ha dato una una conferma conferma la conferma non lo so però mi ha dato un'idea specifica in più su quello che è stato il lavoro svolto il lavoro è stato è stato ottimo io ringrazio il tutor per tutto il lavoro svolto svolto insieme e niente grazie ancora e buona buona serata ciao e buona serata ciao ciao ciao